Ragazzi, da capo, qui, speculare, alla sua lavoro, tutte le appunti, ma tutta, se non lo hai fatto, l'altro ne hai attacca un punto di vita, muro di pesa, se tu vuoi il punto di rispondere, è un punto, l'altro ne è successo, se loro vanno in pesa, a punto докamentse, vanno nel futuro, non vale la patenze, se io vorrei che ovunque vanno, veramente il gruppo principali, sempre che vanno in un volito, là il battenza di démbol-vole, toppate il tuo calcio che volete, il punto mentre c'è mi la torta non c'è, mi spalmi giù e mi fissò, prendo il suo po' di gioco e appena succede la torta del cazzo, cos'è il tuo po' di gioco? e poi si chiama il cazzo, si chiama il cazzo, si chiama il diamonale non dovete giocare con il cazzo non credo che il cazzo si gioca un po' di gioco e poi si chiama il cazzo, c'è il peliconto tutto il cazzo, non c'è il gioco questo è vero Ok. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti